Il gusto è le chiavi Ah, la di premio Facciamo che continuiamo questa, come se fosse la chiave del vestino insieme a... Ah, la chiave della bici? Ah, la bici? Ma è piuttosto... Ma qual è? Va a firmare loro che fanno la prima azione Devo fotografarlo Prego? Devo fotografarlo Su, cioè non hai mica fretta Ma sì, ciao, aspetta, aspetta E poi quella mando L'anno prossimo Devo andare Su, non c'è